Il vincitore decretato dalla giuria giovani assegnano il premio miglior corto a regista Sebastia Molucci di Latina, orgogliosa di sottolinearlo e di dirlo, con il cortometraggio L'albero delle scarpe. E accogliamo il regista Sebastia, un bel applauso. Ecco di qua, ti abbiamo portato bene, che bello ripeto, quanto tempo? Dopo Cannes, il festival continuo del cortometraggio internazionale. Che grande emozione, vai, raccontaci cosa ha la tua sensazione a caldo. Ricordiamo che Sebastia è anche un docente della Roma Film Academy, quindi forma nuovi futuri talenti nell'ambito della... Sì, la Roma Film Academy è all'interno degli studios di Cinecittà e io mi occupo del corso di regia e sceneggiatura e con me ci sono altri addetti ai lavori che insomma svolgono. Noi siamo professionisti prestati alla docenza in questa accademia che è un'accademia come dice spesso la direttrice d'arte, sebbene il cinema sia un mestiere prima di tutto, è un'industria però si può anche diventare arte, no? Dipende poi insomma dalla capacità, la sensibilità personale. L'albero delle scarpe è stata un'avventura nata perché io quando sono andato a fondi... Possiamo ricordare, scusa Mariana, che non è mi faccia provare il 38 scamosciato o il decoltè ma è un... cioè di un certo livello. Sì, nel senso che... No, nel senso che ieri lei è rimasta male. Ecco. No, lei giustamente, io avevo detto che era un film dove si parla della... cioè della figura della donna oggi e anche nel passato. Allora Mariana ha pensato... Ha associato la scarpa... Magari come Alice, lei usciva di casa a comprarsi le scarpe e cascava nel... Non parliamo di cadute che passano... Ah, no, no... Sì. Quindi invece la scarpa, liberarsi insomma di questo... Sì, diciamo che fondamentalmente è un racconto di una liberazione di personaggi che insomma cercano in qualche modo una loro... una loro liberazione emotiva, interiore ed è un racconto d'amore fantastico ed è nato perché quando andai a presentare La Terra e il Vento, il film prodotto da Arpa Film, Paola è qui presente, lo presentai a fondi in una matinee per le scuole e nel palazzo baronale, però mi ricordo la proiezione, è gremita e i ragazzi devo dire sono rimasti molto catturati perché è un film La Terra e il Vento che parla di giovani, anche futuro, rapporti generazionali e per non riguardarmi il film l'ennesima volta perché quando noi facciamo i film al montaggio ce li riguardiamo cento, mi sono fatto un giro per fondi e io in realtà non l'avevo mai vista così bene allora ho pensato che bello sarebbe ambientare una storia qui. Mi sono fatto un mio viaggio mentale, poi con la produttrice Ilaria Parisella di Atravisio abbiamo costruito questa storia e è una storia, ripeto, di una liberazione di due personaggi del presente attraverso dei personaggi del lontanissimo passato che lottano contro insomma anche una società opprimente, oppressiva e quindi prendere esempio da grandi eroi ed eroine del passato forse può aiutarci a vivere meglio il presente, questo. Quindi adesso riproietteremo, adesso lo rivedremo così le persone che non c'erano domenica avranno modo di godere di questo bellissimo prodotto e volevo anche dire un'altra cosa che ho notato attraverso il tuo cortometraggio, c'è una scena particolarmente forte però la cosa che mi ha fatto piacere ma non per pudicizia è il fatto che non fosse una scena di sesso fino a se stessa strumentale, ma era contestualizzata un discorso di amore, di amicizia e di valori condivisi. Quindi ti volevo ringraziare che anche attraverso immagini tra virgolette forti si può essere poetici, era una mia notazione personale. Ti ringrazio anche perché in questo film vedrete sicuramente molte scene anche di Eros esteso, trasversale come sempre stato nella storia dell'umanità senza etichette e questo secondo me è fondamentale in una società come quella di oggi che cerca di etichettare invece l'amore, i sentimenti devono viaggiare liberamente e credo che questo film in qualche modo lo faccia arrivare. Grazie. Assolutamente, assolutamente. L'albero delle scarpe qualcuno mi ha detto ma è una citazione dell'albero degli zoccoli? Tu l'avevi detto. No, semplicemente. Quella è la versione estiva Marianna, c'è l'infradito e l'infradito gioiello. Semplicemente mi ha colpito che c'è una tradizione in Australia ma anche in alcuni paesi dell'America di appendere. Sì, di appendere. Come l'albero di Natale per gli scandinavi e la scarpe. Ecco, la scarpe è finita. No, più che altro è un rito propiziatorio quasi, cioè lasciare le scarpe su questi alberi è un modo per lasciare anche la pesantezza del vivere e cercare di viaggiare e camminare più leggeri. Buona visione. Grazie. Buona visione a tutti, ci vediamo dopo. Complimenti a Sebastia, ti do la pergamena. Aspetta Sebastia. E poi ricordiamo che c'è anche un premio, un piccolo omaggio in denaro perché l'arte è fatta non solo di talento ma anche di fondi, ahimè, per pagare le maestranze, per finanziarsi, eccetera. Dirò che questo premio, gratuitissimo, sarà proprio utile per le spese di distribuzione che manderanno l'albero delle scarpe in giro, quindi da Cannes andrà in giro per il mondo. Cannes, Latina, mondo. Grande, poi iniziamo con le scuole, ne parliamo. Buona visione. Grazie. Grazie. Grazie.